Bambini al corso per il carnevale? Sì, sì. Adesso sto facendo acquisti, che cosa pensate di comprare? Che cosa di vendere? E bombolette. E bombolette spray. Da cosa sei mascherata? Da Barbie. Barbie, facci vedere un po' questa bella mantella. Che bel vestito, sei proprio una bella Barbie. E tu invece da cosa sei mascherato? Anche con la spada? Sì. E cosa fai con questa spada? Facci vedere il tuo vestitino. Si è sbottonato perché si è bravissimo. Ah, bravissimo. Anche qui al negozio, vediamo, alla bancarella, stanno con il vestito di carnevale. State vendendo questa mattina? Sì, sì. Quali sono gli articoli più acquistati? Coriamando, le stelline, le stelle filanti. Bombolette anche? Sì. Stelle filanti, tutta roba è notua. Rosa, dammi 15 euro. Rosa? Si vende questa mattina? Sì, sì. C'è poco, aspettavamo qualche zezza, però la neve ha bloccato tutto, però non fa niente. Nonostante la crisi, comunque la gente acquista. Sì, una volta all'anno è carnevale, i bambini si divertono. Grazie. Grazie. Grazie.